Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare buone notizie per il bike park di Ravenna all'ex ippodromo. Dopo gli eslittamenti dei mesi scorsi l'iter per l'avvio della realizzazione dovrebbe finalmente partire. Ad aprile 2023 CER si è giudicata la gara d'appalto per i lavori per un importo di 1.700.000 euro. Il calendario dei lavori dovrà tenere conto delle esigenze di tutte le realtà coinvolte. La speranza iniziale era di poter vedere i primi ciclisti allenarsi nei primi mesi del 2025. Verrà realizzata una pista in asfalto che in parte interesserà l'ex tracciato riservato ai cavalli e in parte il prato interno all'ovale nell'area adiacente al Palacosta. In sostanza il bike park è stato pensato per gare lungo l'ovale che per quasi metà della propria lunghezza avrà una doppia corsia o percorsi integrabili con distanze minori. Sarà una palestra di 2 km con 5 percorsi che garantiranno diverse distanze e area dedicata a pump track, mountain bike, ciclocross e BMX. Il tracciato dove potranno essere organizzate gare largo 5 metri rispetterà le norme previste dal CONI. Il progetto prevede anche una pista di pattinaggio di 56 metri. Due torri faro garantiranno la possibilità di usufruire dell'impianto anche con il buio. Nelle ex scuderie verranno invece realizzati gli spogliatoi, i bagni, l'ufficina, gli uffici e l'area ristora.